SIGLA Mamma, grazie per avermi ricevuto. Ci terrei ad essere io a parlarti di una cosa che accrescerà ulteriormente la tua disistima nei miei confronti. Lascia che sia io a giudicare. Ho rilasciato un'intervista. Che genere di intervista? Ho rilasciato un'intervista senza filtri alla BBC che andrà in onda lunedì 20. E perché? Sentivo il bisogno di chiarire alcuni aspetti del mio matrimonio. Oh, per favore. Sei come un disco rotto. Sul fatto che sono stata esclusa e abbandonata a me stessa e che ho sofferto per mancanza di empatia e di affetto e di compassione. Non sono cose già sentite un migliaio di volte. Non le abbiamo già lette sui giornali un migliaio di volte? Non hai mai pensato che se senti il bisogno di chiarire un paio di cose forse una piazza pubblica potrebbe non essere il posto più adatto? Che certi temi andrebbero discussi in privato con i diretti interessati? Ho provato a farlo. Quando? In più di un'occasione negli anni ho chiesto di vederti per poterti parlare vis-à-vis ma ogni volta immancabilmente ti sei negata o non eri disponibile. Te ne do atto non è facile muoversi in questa famiglia e posso capirti se pensi che siamo tutti un po' distaccati ma preferirei usare un altro termine occupati siamo tutti molto occupati con agende stracolme quasi mai sotto lo stesso tetto per due notti di fila e nessuno di noi non un singolo membro della famiglia reale ha dieci minuti liberi per pensare a se stesso figurati pensare a te o a come potremmo rendere la tua vita un inferno al contrario non ci crederai ma passiamo molto del nostro tempo a fare l'esatto opposto quando capita e capita che le persone mi chiedano è adesso quella che cosa ha fatto oppure ma chi si crede di essere che cosa pensi che risponda oh mio dio sì Diana è orribile è un incubo che errore tremendo che è stato non è mai successo non una singola volta sei la moglie del mio primogenito la madre dei miei nipoti è un esponente importante di questa famiglia e io ti difendo sempre e comunque in tutte le occasioni e sempre con lealtà con fermezza senza esitazione oh grazie a tutti